Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi parleremo il giorno dopo di Napoli della Societad Faremo il pagellone, partiamo dal portiere Partiamo dal portiere, Ospina, Ospina 6 e mezzo, bella partita Di Lorenzo 6, Maximovic 5, non mi è piaciuto tanto ieri Coulibaly 6, insufficienza piena ma fa troppi errori però a volte fa dei bei interventi Perciò gli do 6, Mario Rui, Mario Rui, Mario Rui, 5 e mezzo, 5 e mezzo Fa sempre errori e poi a volte fa la giocata bella, però 5 e mezzo Fabio Ruiz, Fabio Ruiz, caro Fabio Ruiz, caro Fabio Ruiz, caro Fabio Ruiz, caro Fabio Ruiz 4 e mezzo, mamma mia, inguardabile Bakayoko 6 e mezzo, benissima partita, ieri ha fatto una bella partita Lozano, Lozano, gli voglio dare 6 6 a Lozano, anzi 6 e mezzo 6 e mezzo a Lozano, ha fatto una bella prestazione però 6 e mezzo Allora, Gieliski, 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 mamma mia, mamma mia Ma che, che, che ha combinato, che ha combinato ieri Bellissima partita, oltre a gol però, oltre a gol bellissima partita Ha segnato anche E, ehm, gli do, gli do, 8, 8 Insigne Insigne, insigne sufficienza piena, sai Mertens, la stessa cosa, sufficienza piena Niente, non ho fatto niente di che E' stato anche ammonito Sufficienza più che bene per Mertens Perché si meritava anche di peggio, non fa niente E' niente, ragazzi Questo è il mio pagellone Fatemi sapere, qui sotto nei commenti Sotto qui, i commenti, commentate Fate anche voi il pagellone di Napoli Real Societad Fatemi sapere se siete contenti Del passaggio del turno E, niente, commentate Lasciate tantissimi like Iscriviti al canale Tu che mi stai guardando Se sei nuovo Iscriviti E niente, ragazzi Ciao Ciao